E' Petronia, sotto la guida del professore Stefano Lugno, esperto della storia geologica del bacino del Mediterraneo. Qui, nel petronio E' Petronia, abbiamo la possibilità di vedere alcuni esperti della geologia della Sicilia in relazione alla formazione del S.A. La fariscella, se di sale e di zucchero, ok? Le parti uguali, di sale e zucchero, 50 e 50. Per il caso che li assaggiamo, così vi rendete conto un attimino anche di pensare che questo è quello giusto per i dolci, che è meno sabido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.